Sono nata nel cesto dei fortunati, così inizia la mia intervista con l'onorevole Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati dal 24 settembre 2019, già ministra nel governo Renzi e sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri nel governo Gentiloni. Una frase, quella del sentirsi comunque una persona affortunata che l'onorevole Boschi ripete più volte nel corso della nostra intervista proprio a significare che, al netto di dolori e delusioni, la sua vita ha sempre avuto complessivamente un segno positivo. Onorevole Boschi, le cronache riportano, durante il giubileo del 2000, di una giovane Maria Elena fervente cattolica, presente a Tor Vergata durante la Giornata dei Giovani. Che esperienza è stata? Avevo 19 anni ed ero già stata a Parigi ad un incontro internazionale dei Giovani Cattolici, ma quel giorno, in agosto, sotto una caldana impressionante ed assieme a due milioni di ragazzi, rimarrà sempre nella mia memoria, nel mio cuore come qualcosa di unico ed irripetibile. Camminammo per mezza giornata a Roma e poi arrivamo a Tor Vergata, in attesa della veglia e della messa con Papa Voitiwa. Che sogno aveva in quel momento Maria Elena? Erano sogni semplici di una ragazza di provincia cresciuta con un'educazione cattolica, volevo laurearmi, in giurisprudenza che era la facoltà che avevo scelto, sposarmi ed avere una famiglia.